Crolli e dissesti, danneggiamenti e pericoli di natura idrogeologica, Italia Nostra mette nel mirino l'impianto di via Pusterla, la cui realizzazione dovrebbe partire già dal prossimo settembre. Nelle mani dell'associazione ci sono due perizie asseverate e la forza di 14.000 firme, un numero ingente di cittadini che respinge al mittente l'idea di costruire in quell'area una centrale. A parlare l'ex parlamentare, l'onorevole Rodigino Gianluigi Ceruti. Secondo due perizie autorevolissime del professor Vitaliani e del dottor Drolli, il primo è uno dei maggiori strutturisti italiani di livello europeo, l'altro proviene dall'Ecole des Minnes di Parigi, prevedono il crollo di Capriuli e danni anche al ponte di Andrea Palladio. Insomma una serie di pericoli che non giustificano, secondo l'associazione, la costruzione di una centrale che dovrebbe limitarsi a una media di 125 kWh. L'associazione si schiera a favore dell'energia idroelettrica, sottolinano, ma è necessario individuare un sito idoneo e con caratteristiche diverse da quelle previste. Un ricorso, quello presentato da Italia Nostra, basato anche su alcune interviste raccolte proprio dalla nostra emittente. Il fulcro sono però le perizie, documenti che mettono nero su bianco, i rischi per l'area. Non sono io a dirlo, sono queste relazioni peritali estremamente asseverate da giuramento, estremamente autorevoli e non contestate dalla conferenza di servizi, perché la conferenza di servizi ha convenuto che sono preoccupanti e preoccupante la situazione.